Ancora metto matti dalla deduzione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, possibili disagi per presenza di personale su strada tra V1 variante e Sasso Marconi verso nord. In A11 resta coda per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso il capoluogo. Possibili disagi inoltre per presenza di veicoli fermi o in avaria tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze, tra Pistoia e Monte Catini Termo in direzione di Pisa. Siamo al traffico urbano di Firenze, prudenza per probabile presenza di materiale incarreggiata sull'Ungarno Colombo. L'attivamento ai cantieri tramviari per la tratta Fortezza San Marco da quest'oggi, 24 febbraio, il cantiere in Viale Lavagnini si allunga verso Viale Strozzi. Il prossimo fine settimana modifiche anche per l'elavorazione nel tratto da Piazza della Libertà a Via Poliziano. Tutti dettagli sui nostri canali social. Buonasera, signora Toscana Infian, servizio e collaborazione per Giorgio Toscana, città metropolitana in Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.